buongiorno a tutti allora news dall'orto in questi giorni abbiamo finito di piantare la prima parte di cipolle una cipolla che servirà sia da vendere fresca per fare poi una conserva invece da questo lato l'orto procede con le sue verdure piantate già un bel po' di tempo fa stamattina mi vedete qui incappucciato perché siamo in esterna andremo all'agribbio scuola villa dei cedri in centro a pari per svolgere un'attività con una novantina di bambini dai 35 anni li insegneremo a riconoscere i semi dell'orto ieri è partita la campagna di crowd founding su produzione dal basso mi raccomando a spargere la voce e avversare in modo da darci una mano e completare il secondo step della fase di investimento della cooperativa tutti avete già ormai saputo e ben noto quello che è ormai la situazione della cooperativa e con quanta fatica e coraggio stiamo procedendo per poter cercare di non far chiudere questa realtà i coupon siamo arrivati a un'ottantina quindi non abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 150 sarà molto dure ma non ci arrendiamo per quanto riguarda il crowdfunding vi aggiungo una cosetta piccola piccola nuova nuova allora la sfida è questa se raggiungiamo i 15 mila euro e quindi riusciamo a prendere tutto il premio del crowdfunding a superarlo vi prometto di mangiare questo vasetto qui sono 90 grammi di trinidad muruga scorpion red misto a naga assam quindi parliamo del secondo e terzo classificato al mondo me lo mangerò in un panino quindi versate per vedermi lacrimare e crepare buona giornata ciao